Il CSM ha votato la nomina del nuovo procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. A distanza di anni si fa ancora la vilente errore di non valorizzare i magistrati che si sono distinti per il loro operato, divenendo simbolo del contrasto e della lotta alla criminalità organizzata. Lo afferma in una nota Goel, il gruppo cooperativo, le persone e realtà impegnate nel contrasto alle mafie e la società civile, e avevano sperato, essi erano illuso che si potesse cogliere quest'occasione per dare un segnale forte e inequivocabile con la nomina di Nicola Gratteri, magistrato divenuto punto di riferimento indiscusso nella lotta alla criminalità organizzata, con secoli di condanni inflitti agli appartenenti all'organizzazione mafiosa più forte in Europa. Un'enorme quantità di stupefacenti, sequestrati e di beni confiscati, un'incontestabile competenza di indagini nazionali e internazionali complesse, una capacità investigativa di altissimo livello. Forse l'unico vero criterio di minor merito che può essere addebitabile a Gratteri è la sua totale indipendenza dalla politica e dai poteri forti, la sua capacità di non guardare in faccia a nessuno e la totale assenza di ogni forma di servilismo verso qualunque tipo di potere che in questo Paese non è mai stata premiata. Goel è indignato di fronte ad una scelta incomprensibile che senza nulla togliere al neoeletto procuratore nazionale appare come un'indecifrabile presa di distanza istituzionale nei confronti di uno dei magistrati oggi più esposti al rischio, nei cui confronti sono noti intenti possibili attentati proprio per la pericolosità della sua azione di contrasto e la capacità di infliggere attacchi senza precedenti all'organizzazione mafiose. Ma per fortuna Nicola Gratteri ha al suo fianco un fortissimo consenso della società civile e di tanti uomini e donne onesti delle istituzioni. Un'Italia fatta da persone libere che hanno la capacità di indignarsi e che non permetteranno di certo l'isolamento di uno tra i più bravi magistrati antimafia che l'Italia abbia avuto.